Il comune di Pian di Meleto si appresta a vivere una settimana da capitale della cultura all'interno del progetto 50x50 capitale al quadrato di Pesaro 2024. Il titolo del programma è la contea di Pian di Meleto che accompagnerà i visitatori dalla 22 al 28 luglio tra feste, medioevo e rinascimento. Pesaro Capitale ci dà questa grandissima opportunità per Pian di Meleto, una settimana ricca di eventi per ripercorrere la storia di tutto il comune, dalle piccole frazioni fino al capoluogo. Tante le frazioni che andranno ad essere toccate da questo bellissimo evento ma soprattutto arriviamo alla fine della settimana con il grandissimo evento che è il Paglio dei Conti Oliva dove tutta la Proloco, tutta l'amministrazione comunale invita le persone a partecipare a questo bellissimo evento unico nel suo genere ma soprattutto alle ore 10 la contesa del tiro con l'arco, del famosissimo tiro con l'arco ma soprattutto l'evento finale per premiare chi ha vinto il Paglio quindi l'arciere migliore con un evento a dir poco spettacolare che mischia la musica al castello in fiamme. Noi a Pian di Meleto abbiamo questo evento particolare del quale siamo molto orgogliosi che è il Paglio dei Conti Oliva. Quest'anno abbiamo la fortuna e l'onere di organizzare un evento ancora più spettacolare perché saremo ospiti di Pesaro Capitale e siamo molto contenti comunque di avere questo impegno. La pressione si sente però siamo molto contenti di poter far conoscere ancora più persone quella che è la nostra manifestazione della quale andiamo più orgogliosi anche perché siamo un piccolo borgo e magari non tutti conoscono queste perle che la regione nasconde e speriamo che questo evento in collaborazione con Pesaro Capitale possa portare la dovuta lustro alla nostra festa e al nostro paese del quale andiamo orgogliosi. Un programma complesso, articolato che vede proprio nell'evento finale il clou della settimana ma il Comune ha costruito perfettamente rispetto alle aspettative, rispetto alle sollecitazioni che Capitale ha lanciato già dall'anno scorso un programma ricco naturalmente di storia, di incontri, di approfondimenti e in qualche maniera completa questo racconto di una comunità che si è messa a disposizione a lavorare per dare il meglio di sé soprattutto in questa settimana da Capitale. Sicuramente è un modo per riscoprire parti più nascoste del nostro patrimonio ma ritornare con maggior attenzione a quanto lavoro, quanta attività culturale è stata svolta in passato ma durante quest'anno abbiamo capito che molti comuni hanno riniziato a scoprire le proprie radici, le proprie attività e a mettere in evidenza i gioielli da poter mostrare al meglio durante la settimana.